Vi chiedo una cortesia, non soffermiamoci sulle mie discutibilissime scelte di Luca, anche perché devo dirlo con grande gioia, questo è soltanto un filtro, non mi sono tolto la barba, è soltanto l'intelligenza artificiale che sta togliendo dal mio volto qualche pelo in più. Purtroppo ho settato tutto in maniera errata e quindi si vede così, state tranquilli, non ho assolutamente fatto questa cavolata allucinante con il rasoio, non è assolutamente successo questo. Quindi lasciamolo da parte questa roba qui, non vedo l'ora che finisca questa agonia, ma concentriamoci invece sulla Juventus, andiamo dritti, sulla partita di oggi tra Juventus e Lazio, perché abbiamo delle novità di formazione e quindi parto da questo, solitamente invece facciamo altro, invece voglio andare dritto su quella che sembra essere la probabile formazione. Leggo Giovanni Albanese che ha twittato veramente cinque minuti fa, quindi Di Gregorio, Savona, Gatti, Calul, Cabal, Turam, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Ildis e Vlaovic. Questi dovrebbero essere gli undici scelti da Tiago Motta per scendere in campo al primo minuto per la partita di stasera contro la Lazio. Importa, ce l'aspettavamo, difesa, Savona, Gatti, Calul, ce l'aspettavamo, Cabal invece è la novità, perché? Perché l'alternativa era abbassare Cambiaso che invece giocherà alto a destra con la posizione di Savona che sarà importante perché Cambiaso andrà a stringere, Savona andrà a prendersi invece quella corsia lì. Cabal che era desaparecido, non lo vedevamo veramente da una vita e ora viene riesumato per questa partita e sarà un test importante. Tra l'altro, se non erro, Cabal aveva giocato proprio l'ultima partita con la Juve dal primo minuto con la Roma, quindi Roma e Lazio se le fa tutte e due Cabal. Gli viene preferito rispetto a Rui che invece aveva giocato titolare nella partita di Genova. L'unica vittoria in Serie A nel mese di settembre, la partita che era prima appunto della Champions League come in questo caso, dato che poi la Juventus giocherà anche il 22, quindi tra tre giorni soltanto. Su Cabal sono molto curioso anche perché c'è la possibilità di stringerlo e formare questo terzetto a tre perché Savona, secondo me, sarà molto più alto e andrà a prendersi quello spazio lì a destra e quindi Cabal, Calulu e Gatti potrebbero formare una sorta di impostazione a tre. Attenzione soprattutto alla struttura del centrocampo della Juve perché abbiamo tanti giocatori che giocheranno per vie centrali, quindi Ildis sarà obbligato a prendersi invece l'ampiezza che è una caratteristica che spesso e volentieri Ildis non ama, non adora. È un giocatore che ama partire sì largo ma cerca invece di accentrarsi e di andarsi a prendere lo spazio sulla tre quarti. Quindi lì avremo già un piccolo, secondo me, difetto a meno che invece che il terzetto difensivo, quindi l'impostazione a tre con Gatti, Calulu e Cabal Cabal non vada a fare puramente il terzino di spinta e quindi la Juventus possa ragionare su una sorta di doppio terzino di super spinta quindi Cabal da una parte e Savona dall'altra e impostare soltanto a due difensori con magari un centrocampista che si abbassa e andare a formare la salita alla Volpiana. Questa potrebbe essere assolutamente una delle ipotesi però allora in quel caso Savona e Cabal dovrebbero essere due terzini due difensori che si staccano entrambi dalla linea difensiva e di super spinta una formazione che sarebbe in questo caso molto molto offensiva. Ildis dovrà appunto adattarsi dovrà essere lui il giocatore secondo me più di riferimento all'interno di questa Juventus quello forse anche un po' più penalizzato per caratteristiche ma dovrà cercare di tirar fuori il meglio dal punto di vista tecnico ed è veramente uno dei giocatori che lo può fare perché anche in questa formazione è uno dei giocatori tecnicamente più dotato secondo me poi arriviamo al giocatore perché c'è un giocatore del quale discutere particolarmente. Turam e Locatelli saranno due centrocampisti quindi saranno a disposizione a doppio mediano con magari Cambiaso che si abbassa pure lui e va a formare questo terzetto di centrocampo e quindi libertà a Ildis e a Douglas Lewis di essere dietro a Vlaovic se Cabal e Savona si alzano potrebbe essere questa un'opzione assolutamente un'ipotesi oppure Locatelli andrebbe a giocare sulla tre quarti come ha fatto praticamente per tutte le amichevoli precampionato. Abbiamo visto Locatelli in quella posizione praticamente sempre e a tratti lo faceva anche con il Como con Turam che stava un po' più basso e Locatelli che svolgeva questa funzione di mezzala a stantuffo ogni tanto a fianco di Turam per dare una mano in impostazione invece ogni tanto sulla tre quarti per andare a occupare quella posizione di centro-destra e il centro-sinistra invece era Ildis perché giocava Bangula. Bangula che io oggi mi aspettavo e ve l'avevo detto nelle settimane scorse nelle settimane precedenti quando andavo a ipotizzare quello che poteva essere il quartetto d'attacco non mi aspettavo UEA anche se è a disposizione però torna all'infortunio sapevo che avremmo visto cambiaso lì invece Tiago Motta decide di allargare Ildis e inserire Douglas Lewis alle spalle di Vlaovic che invece è confermatissimo ma anche questo l'avevamo già sentito ieri in conferenza stampa. Ho visto che non siete stati d'accordo con me praticamente al 90% sull'analisi di Douglas Lewis e questa scelta di Tiago Motta va assolutamente a vostro favore e a mio sfavore nel senso che Douglas Lewis che invece parte titolare fa vedere Tiago Motta dimostra di credere nel giocatore di aver apprezzato quelle che sono state le sue settimane di allenamento e che crede in lui come vice Cobb Mainers perché a tutti gli effetti Douglas Lewis va a ricoprire la posizione di Cobb Mainers in campo sarà lui il giocatore che va a sostituire l'olandese infortunato io ragionavo anche tanto su Douglas Lewis come opzione su McKennie anche se con caratteristiche completamente differenti ma credo che sarà più Locatelli a rimpiazzare McKennie dal punto di vista atletico quindi quell'andare a coprire quella gran porzione di campo non glielo vedo fare a Turam non glielo vedo fare a Douglas Lewis lo vedo fare un po' di più a Locatelli anche se stiamo parlando di un centrocampo un po' più statico centrocampo sicuramente più muscolare con Locatelli e Turam è un centrocampo che guadagna sicuramente anche in tecnica in palleggio con Douglas Lewis per quanto Cobb Mainers sia un ottimo giocatore dal punto di vista tecnico però Douglas Lewis da quel punto di vista secondo me da qualcosa in più centrocampo non velocissimo perché sia Turam che Locatelli che Douglas Lewis mi sembrano i giocatori che dal punto di vista atletico non sono eccellenti sono molto importanti invece sul palleggio tutti e tre a loro modo a modo loro possono essere tre giocatori che il pallone lo tengono e lo scaricano magari Locatelli il più velocemente possibile così come Turam invece Douglas Lewis va a trattarlo come si deve sono molto curioso io oggi di vedere Douglas Lewis perché è una grande opportunità per lui perché io ho fiducia sul lungo in questo calciatore perché ieri Tiago Motta ci ha svelato che ci sono stati dei problemi fisici che l'ha limitato io spero superati al 100% perché in questo momento abbiamo già troppi altri giocatori che hanno problemi fisici non se ne possono aggiungere tanti altri perché per la Juventus è stato un investimento di alto livello perché il giocatore ha una nomea importante e vuole siccome conquistarsi non solo a Juventus ma pure la maglia titolare del Brasile e soprattutto perché quando l'abbiamo visto quest'estate ci dava l'impressione di avere qualcosa in più degli altri certo nelle amichevoli certo nel lavoro con dei carichi indubbiamente ma anche quando è entrato anche quando l'abbiamo visto in campo questo è un calciatore che ci ha dato l'impressione di avere dei colpi ci ha dato l'impressione di poter essere decisivo impattante gli manca ancora qualcosa gli manca secondo me molto il concetto di sacrificio per la squadra mi sembra quasi un giocatore che in questo momento dice cavolo mi aspettavo tutt'altro dal mio arrivo alla Juventus mi aspettavo di essere un giocatore importante senza subito invece sono scivolato indietro nelle gerarchie e che faccia anche un po' fatica quando subentra a entrare con veramente il giusto focus però dal punto di vista tecnico per me Douglas Lewis è forte se non fortissimo e io spero davvero che oggi possa risolvere questa partita perché serve in primis a lui perché non è partito bene con la Juve ieri Tiago Motta l'ha fatto capire ha detto ha fatto bene ma può fare meglio tradotto questo è un giocatore forte che non ha ancora mostrato quello che sa fare ed è per questo che adesso non è pronto per giocare al primo minuto però poi ci sono anche quelle partite quei momenti nella stagione in cui c'è una moria generale in squadra e allora anche se l'allenatore in quel momento lì non lo vede come titolare quando ha tutta la rosa disposizione quello non è un tassello che preferisce avere negli undici titolari allora poi c'è la necessità comunque di subentrare e di far vedere quindi questa potrebbe essere una grande occasione per Douglas Lewis è soltanto la sua seconda apparizione al primo minuto perché aveva giocato soltanto con l'Empoli e siccome aveva fatto una brutta prestazione ma Tiago Motta le aveva chiesto di giocare largo e credo che quella non sia assolutamente la sua posizione ideale oggi dovrebbe giocare tra le linee dovrebbe giocare vicino a Vlaovic e da quel punto di vista Douglas Lewis e Vlaovic possono funzionare assolutamente bene perché Douglas Lewis ha una ricerca del passaggio in profondità molto buona ha una cosa importante di Douglas Lewis è un giocatore che anche sui palloni alti sul passaggio filtrante a scavalcare la difesa quindi alzando il pallone è molto bravo quindi secondo me oggi proveremo tanti attacchi alla profondità della Lazio cercando di superare anche la linea difensiva con un pallone alto e con Vlaovic che andrà a attaccare alla profondità quei due giocatori insieme possono funzionare poi sono curioso di capire se Tiago Motta ha pensato altro se si è immaginato ancora di allargare le mezze ali ma ne Locatelli e ne Douglas Lewis mi sembrano giocatori importanti in quella porzione di campo quindi attenzione perché secondo me può nascere qualcosa io mi aspetto anche un Turam o un Locatelli che si abbassano sulla linea dei difensori con Gatti e Calulu che si aprono i due terzini che si alzano entrambi Cambiaso che viene a impostare con uno dei due mediani e il Diz Douglas Lewis tre quartisti centrali per occupare non più l'ampiezza ma proprio quella porzione di campo importante alle spalle della punta pronti a nascare Dusan Vlaovic questa potrebbe essere una buona lettura potrebbe essere una buona Juve secondo me vista in questo modo poi è sempre difficile fare in campo quelle rotazioni e anche in velocità e anche con dei giocatori che non sono magari abituati a giocare insieme perché oggi abbiamo Cabal abbiamo Douglas Lewis abbiamo tra Turam e Locatelli che solitamente sono tutti i ballottaggi o giocatori che partano fuori ma ovviamente si è avuto anche delle possibilità di lavorare con questo gruppo quasi al completo perché alcuni erano via ovviamente con le nazionali non c'era Cambiaso non c'era Cabal non c'era Savona però gli altri non c'era Ildis gli altri sono stati lì e secondo me su queste cose hanno lavorato è una partita difficile indubbiamente abbiamo tante assenze la Lazio è una delle squadre rivelazioni anche Ieri Tiago Motta ha speso bellissime parole per la Lazio per Baroni per il gruppo quindi sappiamo la difficoltà della partita che andiamo a fare ma guardando il calendario è anche una di quelle partite che finalmente devi cercare di andare a vincere perché è una di quelle squadre che si staccano da quelle normali dal decimo posto in giù e noi con Roma e Napoli quando ci abbiamo giocato contro quest'anno non abbiamo ancora vinto speriamo che la Lazio possa essere la prima squadra delle posizioni nobili a cui la Juventus riesce a strappare i tre punti molto molto curioso perché questa formazione è interessante questi giocatori sono interessanti e soprattutto come ha detto ieri Tiago Motta avremo la possibilità di vedere alcuni che in questo momento sono partiti dietro nelle gerarchie ciao a tutti ci vediamo oggi in live su Twitch ciao a tutti ciao a tutti